buongiorno all'oltrepo pavese oggi inauguriamo un nuovo modo di fare di fare buongiorno oltrepo con un grande amico dell'oltrepo che è anche un bravissimo scrittore si chiama valerio bergamini è qui con me ed è lui l'autore del grande libro dedicato a lino maga la sua storia lino maga no magalino il signor barbacarlo valerio che come è nata l'idea di questo libro e che effetto ti ha fatto raccontare la vita di questo grande del vino dell'oltrepo e non solo beh innanzitutto io faccio parte di un'associazione si chiama eno curiosi di pavia siamo circa 300 soci che andiamo in giro per l'italia ma anche all'estero a visitare i luoghi dell'eccellenza del buon mangiare del bombere e naturalmente avevamo un eccellenza del territorio a pochi passi siamo andati anche a visitare la cantina del barbacarlo dal lino maga no che non conoscevo conoscevo solo il barbacarlo ma il fautore il barbacarlo non lo conoscevo tant'è che ho avuto l'occasione con le ne curiose di andarlo trovare e siamo diventati subito subito amici sono ritornato per mio conto presso la cantina a parlare con lui lui si è aperto mi ha raccontato praticamente la sua vita che poi la vita del barbacarlo e io mi sono trovato fra le mani un materiale veramente di una qualità molto elevata e ho detto perché non farne un libro in modo che tutti possano rendersi conto della quantità e qualità di personaggio che abbiamo inoltre ecco valerio suasi l'interrompo lino maga naturalmente non ha bisogno di presentazioni però diciamo pure un maestro del vino che ha vinto anche una battaglia nazionale straordinaria trasformando e proprio il nome del suo vigneto in una firma sua e soltanto sua non più in una denominazione per tutti partendo da un vino rosso che ha fatto innamorare di sé grandi uomini grandi firme della cultura non solo enologica da brera a veronelli ecco valerio essere stato tu praticamente il primo a dedicare un libro racconto storico anche a un personaggio così che effetto ti ha fatto beh prima di dirti l'effetto voglio collegarmi a quello che hai appena detto cioè vino rosso perché maga direbbe broni vini rossi che era uno slogan che andava per la maggiore qualche anno fa e che adesso si è perso un po perché l'oltre posta andando verso i vini bianchi comunque ritornando non solo eh non solo cioè grandi spumantistiche grandi anche grandi vini rossi ed è giusto e poi forse per lui che conosco un po anch'io lui direbbe il vino è rosso il vino direbbe è una cosa seria una delle sue frasi storiche come quell'altra che il vino è la terra che è una sintesi ancora più evoluta rispetto a quello che aveva detto soldati che il vino è la poesia della terra lui dice il vino è la terra beh l'emozione fortissima prima di tutto perché lino maga mi ha rivelato delle cose della sua vita che non aveva mai detto a nessuno cose anche diciamo legate molto alla famiglia a un figlio perso a un padre finito sotto un treno eccetera eccetera cose veramente che ancora adesso mi vengono i prividi a pensarci e naturalmente diciamo i 22 22 anni della sua vita dedicati alla salvaguardia al barbacarlo sono quelli che diciamo sono più significativi perché veramente lui ha lottato contro un sistema che li ha battagliato contro tanto è vero che lui dice che io sono contro le leggi inique che portano via lavoro alla terra perché lui per veramente per 22 anni ha dovuto trascurare la terra per difendersi in tribunale e far fallere questo diritto sacrosanto di chiamare barbacarlo solo lui anche perché voglio aggiungere solo una cosa che la sua azienda si chiama azienda agricola barbacarlo è come se un viticoltore delle langhe chiamasse azienda agricola barolo o azienda agricola barbaresco la sua azienda non sarebbe possibile lui invece lo può fare perché è un vino unico ebbene è una magia che va avanti perché sono passati tanti anni anche tanti anni da quella battaglia quella battaglia lunga dura annosa lui ha mantenuto una grande identità oggi barbacarlo è il nome di una vigna il nome di un vino è il nome di un'azienda che fa bella mostra di sé nelle carte dei vini di milano dei grandi dei grandi ristoranti italiani e che è diventata un'azienda visitata da un numero enorme valerio di vip perché ci sono anche tantissimi vip appassionati al mondo del vino che vengono inoltre po proprio perché esiste il barbacarlo dunque questa battaglia non ha tolto una denominazione del territorio ma ha fatto brillare una stella che poi ha illuminato nel tempo il territorio certo certo il barbacarlo è un grande vino bisogna dirlo senza virgolette ed è anche riconosciuto a questa grandezza da dall'ais l'associazione italiana sommelier una delle più grandi associazioni al mondo tant'è vero che conta 35 mila associati e due anni fa a luglio del 2015 ci sono stati i trenti hanno celebrato i 50 anni della fondazione dell'ais sono stati tre giorni di grandi festeggiamenti all'west in palace di milano si sono bevuti baroli barbaresche tutti i più grandi vini del mondo i borbolesi barbonesi di champagne alla fine l'ultima degustazione quella che chiuso i tre giorni di festa alla quale hanno potuto partecipare solo 100 fortunati sommelier è stata fatta con sei annate del barbacarlo quindi beh abbiamo detto tutto abbiamo detto ecco parliamo del libro invece dove trovarlo soprattutto perché molti magari non ce l'hanno sono curiosi poi tra l'altro questo libro avuto grandissimo successo e seguito anche a golosaria milano ultimamente l'hai portato da tante manifestazioni però chi ci guarda come può acquistarlo allora per fortuna sono andate esaurite le prime due edizioni adesso abbiamo pubblicato per la terza volta una una diciamo edizione limitata di un 300 copie che sono reperibili presso la libreria di voghera mi ricordo più come si chiama e c'è una libreria di voghera famosa che ha questo libro la libreria ticino ticino un di via bidone a voghera via bidone e si può trovare in abbinamento alla guida dei guidando con gusto della strada del vino dei sapori dell'oltrepo sul sito guidandocongusto.com esatto devo dire che questo libro ha avuto un successo che anche tu stesso non ti aspettavo quando lo hai scritto perché evidentemente ecco attorno all'inomaga questo è importante raccontarlo perché in un mondo del vino valerio che si sta anche un po' spersonalizzando sta diventando un po' troppo industria forse c'è ancora il cuore del produttore che vince tant'è vero che attorno all'inomaga c'è una vera e propria comunità di amici appassionati estimatori colleghi gente che da tanti anni beve barbacarlo e che si è voluta anche portare a casa diciamo la storia di questo di questo straordinario produttore tu lo sfidi sempre anche a guardare al futuro a fare progetti per il futuro e so che c'è in calendario già una manifestazione unica che non può che non sarà nella hall di un grande albergo o riservata a un pubblico di ricconi bensì diciamo che il barbacarlo è un vino genuino va verso persone genuine perché la genuità tante volte bisogna averla prima nella testa che non nelle mani se non non riesce a fare le cose genuine e lui ce l'ha nella testa tanto è vero che ha pensato di fare una degustazione dei suoi vini solo per dei clochard chiamiamoli pure con la parola che va per la maggiore per i barboni che sono i più grandi intenditori di vino così dice così dice lino stupendo tutti però qualche ragione ce l'ha porterà nella sua cantina 30 clochard accompagnati con i pulmini dell'ice di milano che degusteranno otto annate storiche che lui non ha mai tirato fuori perché le bottiglie non erano molto consistenti per fare delle degustazioni importanti queste annate storiche saranno appannaggio di una trentina di barboni solo ed esclusivamente per loro e che me lo fai dire incredibile cioè in un mondo che guarda tutti e tutto allo strini paillette luci eccetera lui ci ricorda con questa cosa che il vino è soprattutto un alimento è un alimento cosa che abbiamo un po dimenticato nel tempo è un'altra delle cose che dice lì e quando si svolgerà questa 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 è prevista per domenica 14 maggio con inizio alle ore diciotto e trenta una cena con una degustazione con sempre sotto legida di dell'associazione italiana sommelier quindi sarà la forse la prima volta in assoluto in cui vediamo i clochard degustare un grandissimo vino con i sommelier serviti dei sommelier capitanati da fiorenzo detti il presidente presidente lombardia bene cari amici avete capito cioè siamo tutti emozionati ed è emozionato anche valerio a raccontare tutte queste cose a raccontare questo grande personaggio lino maga perché se certi avvenimenti possono essere accaduti nella storia dell'oltrepo e altri accadranno si deve proprio allo straordinario carisma di un contadino che dice sono un contadino io coltivo la vigna la vigna mi dà questo vino straordinario io ho fatto solo la battaglia per custodire il nome della mia vigna e del mio vino valerio grazie per essere stato con noi mi raccomando voi condividete voglio seguite voglio concludere con uno slogan di walter massa che dice che fare un grande vino e come fare un gol all'incrocio dei pali il barbacarlo aggiungo io è un gol all'incrocio dei pali in rovesciata alle grazie valerio